Tutti contro di noi, ma oggi noi ci riuniamo e siamo tantissimi da una dimostrazione. Migliaia di persone sono scese in piazza San Giovanni a Roma ieri per chiedere con cartelli, slogani, testimonianze la libertà di scelta e lo stop al certificato verde. L'attenzione di alcuni media però non è ricaduta sul messaggio lanciato dai manifestanti, bensì su un gruppo di giovani che al termine dell'evento hanno lanciato oggetti contro la polizia e sul vicequestore Nunzia Schiliro che fuori servizio è salita sul palco definendo il Green Pass illegittimo. Nei suoi confronti il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha avviato un'azione disciplinare, ma nel frattempo è passata in secondo piano la protesta pacifica di chi a gran voce ha detto no alla dittatura sanitaria. Tanti marchigiani che hanno preso parte all'iniziativa, tra loro anche Barbara Giorgini, una docente di scuola secondaria superiore a tempo indeterminato, insegna lingua, letteratura italiana e storia. Ha quattro figli, tre nipoti e viva Monte Felcino. Lo scorso maggio aveva chiesto l'aspettativa per motivi personali e dunque a settembre non ha fatto il suo rientro in classe. Lei Barbara perché ha deciso di partecipare? C'erano veramente tante persone che sono partite anche dalla provincia, ma che sono partite da Fano, Fossombroni, Orbino, eravamo veramente in tanti. Io ho deciso di partecipare perché voglio dare il mio contributo per questo che penso sia un momento molto importante proprio per la vita civile del nostro paese. Non capisco perché io che ho scelto di non vaccinarmi e ho scelto di non farlo in questo momento per motivi miei, debba essere tacciata di egoismo quando in realtà posso contaminare gli altri come i vaccinati. Quindi sono costretta a fare un tampone per svolgere la mia vita quotidianamente, quindi per andare a lavorare, per andare a scuola se fossi uno studente universitario, per andare al ristorante, per partecipare quindi alla vita sociale, quando metto a rischio, tra virgolette, la salute degli altri così come fanno i vaccinati. Perché non si fida della scienza? Io mi fido della scienza, da dove ci sono dei dati certi e incontrovertibili, ma mi sembra che in questo momento nessuno possa dire che questi vaccini nel breve, medio e lungo termine non diano delle complicanze anche molto gravi. Quindi mi chiedo perché una persona in salute che conduce una vita sana dovrebbe mettere a rischio a repentaglio questa propria situazione, quindi la propria integrità fisica per farsi inoculare un siero, il cosiddetto vaccino, che queste certezze non ce le dà. Ho profonda fiducia nella scienza, poi ribadito la docente, laddove però è aperta il confronto e invece in questo caso viene evitato. Per esempio si dice che il vaccino possa portare a diversi rischi, uno di questi potrebbe essere il rischio al cancro, io non lo so. Non sono contro il vaccino ma ho dei dubbi e quindi prima di avvicinarmi a un'esperienza di questo tipo vorrei avere delle certezze. La notizia della manifestazione nella capitale, ha proseguito l'insegnante, è stata sottaciuta o relegata da alcuni trafiletti, ma questo non mi stupisce, ha proseguito perché ormai da diverso tempo le informazioni non vengono date in maniera corretta. Credo che ci sia un grande discredito nei confronti di quelle persone che cercano di elevare una voce diversa dal coro. Tra l'altro l'etichetta, io non mi riconosco nessuna etichetta, tanto meno nell'etichetta di Novax o di No Green Pass. Io sono pro libertà e vorrei che così come sono state libere le persone che hanno scelto di vaccinarsi, possiamo continuare ad essere liberi noi che abbiamo qualche dubbio e magari rimanderemo il vaccino a un momento successivo. Che cosa direbbe oggi ai suoi studenti? Allora, quello che dico sempre da quando insegno. Dico che la scuola e lo studio non serve per immagazzinare delle nozioni o dei concetti, ma che è una palestra per esercitare lo spirito critico. e ritengo che in questo momento attuale sia una palestra formidabile perché sia necessario informarsi su più canali, su più fronti ed essere aperti al confronto. Quello che trovo invece è che ci sia una grande chiusura da parte di alcune persone che credono di avere in mano la verità. Quindi il vaccino viene considerato come l'unico modo per debellare questa malattia. Io non ho neanche la verità, al contrario, cioè io non sono quella che dice che il vaccino fa male, non deve essere inoculato, ma credo che bisogna andarci veramente con le dovute cautele. Quindi ai miei ragazzi direi di continuare a fare quello che hanno imparato da me o dalla scuola in generale. Quindi avere aperti gli occhi, esercitare il proprio spirito critico per sfuggire dalle manipolazioni.